Un vero e proprio quartiere a luci rosse, quello scoperto dalla Polizia Municipale di Napoli da novembre ad oggi. Nel quartiere di Forcella, infatti, come si legge anche in un'inchiesta del Quotidiano il Mattino, i vigili hanno trovato ben 22 case del sesso. Le ultime due sono state individuate nel corso dei servizi per il controllo della prostituzione da parte dell'Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali, guidata dal capitano Sabina Pagnano. Una era occupata da una prostituta marocchina che adescava clienti lungo il corso Umberto, mentre l'altra da tre transessuali macedoni. L'Unità Operativa della Polizia Municipale da novembre ad oggi ha predisposto servizi di appostamento e sorveglianza per la presenza di prostitute che svolgono la propria attività all'interno di terranei adiacenti al corso Umberto I e Piazza Garibaldi. I proprietari individuati sono stati denunciati per favoreggiamento della prostituzione, come prevede la legge 75 del 1958, conosciuta come legge Merlin. Come è stato sottolineato, lo scopo primario di tale attività, che vede impegnati nei servizi notturni personali e mezzi della Polizia Municipale, è di restituire decoro e vivibilità al corso Umberto I e Piazza Garibaldi, dove si sono riscontrati buoni risultati a seguito delle attività in termini di presidio del territorio e controllo del fenomeno nelle ore serali e notturne.